Ottobre, mese rosa, l'ex Gemelli ha aderito nuovamente all'iniziativa di screening gratuito lanciato dalla Lilt. Vediamo. Due giornate di screening gratuito presso le sedi di Responsible Research Hospital, ieri domenica a Campobasso, oggi a Termoli. Così la struttura ospedaliera del Capologo ha aderito all'ottobre, mese rosa, abbracciando le iniziative di prevenzione lanciate dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ecografie e mammografie per donne escluse dai consueti controlli gratuiti anche sotto i 40 anni. Un nostro team di professionisti si è messo a disposizione per effettuare lo screening, approfondire la tematica e cercare di fugare ogni dubbio. Il tumore al seno rappresenta quasi un terzo di tutte le neoplasie diagnosticate ed è una delle principali cause di decesso femminile. Fondamentale però resta la prevenzione. Tutti lo sappiamo, prevenire è meglio che curare. Parole semplici che racchiudono un grande significato. Qual è il messaggio importante? È quello di diffondere la cultura della prevenzione. La prevenzione è l'unico strumento che noi oggi abbiamo a disposizione per permettere di rendere i tumori non solo curabili ma guaribili. Quando si fa diagnosi precoce e quindi si scoprono dei noduli in fase iniziale, la probabilità di sottoporre la donna a dei trattamenti curativi e di ottenere la guarigione è altissimo. Quindi la Lilt si sta impegnando tantissimo a livello nazionale, a livello regionale, proprio a sensibilizzare la popolazione ma anche la classe politica. Cioè chi è responsabile proprio della gestione dei fondi per la sanità. Perché si deve investire il più possibile nella prevenzione più che nella cura. Questo è molto importante. Ringrazio di cuore i nostri specialisti per aver volontariamente aderito all'iniziativa e tutti i volontari della Lilt. Grazie. Grazie.